Un ponte tra Termoli e Potenza grazie a un progetto che la scuola secondaria di primo grado Brigida ha intrapreso con il Memory, Museo Euro Mediterraneo dell'oggetto rifiutato in collaborazione con Matera 2019. Anche l'Istituto Termolese ora il suo museo spontaneo che ha preso forma con oggetti comuni, reperti, opere che contengono esperienze, ricordi, sogni, memorie di chi ha scelto di esporli. In questo caso gli studenti che attraverso un compito di realtà e sotto la guida delle insegnanti hanno prima scelto gli oggetti, hanno poi descritto la storia che li lega a quell'oggetto e infine si sono occupati dell'allestimento. Sotto una teca di vetro, all'interno di un barattolo, le emozioni più intime e più disparate. Da un souvenir di Londra a una medaglia vinta una competizione musicale, da una calamita della Norvegia in ricordo di una vacanza con la famiglia a un rosario di legno per non dimenticare il viaggio della speranza, per non dimenticare di aver vissuto un momento difficile della vita. E poi c'è un ciottolo di fiume posto al centro e donato direttamente dal Museo di Potenza. L'iniziativa è nata da un'idea di due docenti, della professoressa Zappacosta e della professoressa Ricci, che si sono recate a Potenza in Basilicata. E hanno visto questa iniziativa, che non è altro che il Museo Euro-Mediterraneo dell'oggetto rifiutato. E' una bellissima idea, praticamente di cosa si tratta. Si tratta di raccogliere degli oggetti di poco valore in realtà economico, ma di un grande valore affettivo. E quindi gli alunni sono stati coinvolti perché hanno raccolto questi oggetti, ma soprattutto si sono esercitati in una scrittura anche creativa, cercando in poche parole di esprimere praticamente le motivazioni che li legano a questi vari oggetti. E' una bella iniziativa per la scuola e soprattutto ha una forte ricaduta da un punto di vista didattico. All'inaugurazione hanno partecipato anche i genitori degli alunni che attraverso i tablet e l'applicazione Memorabilia, con una sorprendente connessione virtuale, sono riusciti a visualizzare anche reperti conservati nel Museo di Potenza, ad attivare animazioni in 3D, avviando audioguidi esplicative. Il Museo Spontaneo Brigidino resterà aperto al pubblico per l'intero anno scolastico e dal 24 ottobre al 4 novembre approderà anche al Festival della Scienza che si terrà a Genova. La manifestazione è conosciuta in tutto il mondo come uno dei più grandi eventi di diffusione della cultura scientifica.